Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Gesù ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regine Immacolata, Celeste e Madre Mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue brancia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi. Nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farei da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà. Così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria. Grazie a plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fruttus ventris tui Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatologus, nun che tino la mortis nostre. Amen. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatologico. Voglio darti la lode e la gloria Di ordinare tutto nel tuo volere E riconoscerti per tutti il mio Signore, mio Dio Ti dono il mio volere, mio Re Dami il regno del Fiat Supremo Mio Dio Ti dono il mio volere, mio Re Dami il regno del Fiat Supremo Dami il regno del Fiat Supremo Il 12 ottobre 1903 Avendo detto al confessore che mi lasciasse Nella volontà di nostro Signore Togliendomi l'obbedienza che Sia che Gesù mi ci volesse Sia che non mi ci volesse Dovevo continuare a starmi in questo stato di vittima E lui prima ha detto che non voleva E poi ha detto che avrebbe accondisceso Se io avessi assunto la responsabilità di rispondere a Gesù Cristo Di quello che poteva succedere nel mondo Onde ci pensassi bene Prima e poi rispondere E volendo dire che non volendo io oppormi al volere divino Solo che se il Signore lo vuole io voglio Se non vuole non voglio A che provo questa responsabilità? E lui Pensaci prima e domani risponderai Quindi pensando nel mio interno Gesù mi ha detto La giustizia lo vuole L'amore no Poi trovandomi nel solito mio stato Quando appena l'ho visto Mi ha detto Gli angeli ottengano o non ottengano Fanno sempre il loro ufficio Non si ritirano dall'opera affidata Da Dio della custodia delle anime Adonta Che vedono che quasi a dispetto Delle loro cure Dirigenze, industrie Le assistenze continue Le anime vanno miseramente perdute Essi sono sempre là Ai loro posti Né se ottengono o non ottengono Danno maggiore o minore gloria a Dio Perché la loro volontà è stabile È sempre stabile Nel compiere il lavoro affidato loro Gli anime vittime sono gli angeli umani Che devono riparare Impetrare Proteggere l'umanità E se ottengono o non ottengono Non devono cessare dal loro lavoro Meno che non venisse loro Assicurato dall'alto Questa mattina vedevo il mio adorabile Gesù nel mio interno Coronato di spine E nel vederlo in quel modo gli ho detto Dolce mio signore Perché il vostro capo invidiò il flagellato vostro corpo che aveva tanto sofferto E tanto sangue aveva versato E non volendo il capo restare da meno del corpo Onorato col freggio del patire Istigaste voi stessi nemici a coronarvi con una sì dolorosa e tormentosa corona di spine E Gesù Figlia mia Molti significati contiene questa coronazione di spine E per quanto ne dica Resta sempre molto da dire Perché è quasi incomprensibile alla mente creata Perché il mio capo vuole tenersi onorato Con l'avere la sua porzione distinta e speciale Non generale Di una sofferenza e spargimento di sangue a parte Facendo quasi a gara col corpo Il perché fu che essendo il capo che unisce tutto il corpo e tutta l'anima Di modo che il corpo senza il capo è niente Tanto che si può vivere senza le altre membra Ma senza il capo è impossibile Essendo la parte essenziale di tutto l'uomo Tanto è vero che se il corpo pecca o fa del bene È il capo che dirige Non essendo altro il corpo che è uno strumento Onde dovendo il mio capo restituire il regime del dominio E meritargli nelle menti umane Che entrassero nuovi celli di grazie Nuovi mondi di verità E ribattere nuovi inferni di peccati Fino a farsi Con i quali gli uomini si fanno Vili schiavi di vili passioni E volendo coronare tutta l'umana famiglia di gloria e di onore di decoro Perciò Vogli coronare ed onorare in primo la mia umanità Sebbene con una corona di spine dolorosissima Simbolo della corona immortale che restituiva le creature Corona che era stata loro tolta dal peccato Oltre di ciò La corona di spine significa che non c'è gloria ed onore senza spine Che non ci può mai essere dominio di passioni Acquisto di virtù Senza sentirsi pungere fin dentro la carne e lo spirito E che il vero regnare sta nel donare se stesso Con le punture della mortificazione e del sacrificio Inoltre queste spine significavano che il vero ed unico re sono io E chi solo mi costituisce re del proprio cuore Gode pace e felicità Ed io la costituisco regina del mio proprio regno Onde tutti i querivoli di sangue che sgolgavano dal mio capo Erano tanti fiumicelli Che legavano l'intelligenza umana Alla conoscenza della mia sovranità sopra di loro Ma chi può dire tutto ciò che sento nel mio interno Non ho parole ad esprimerlo Anzi, quel poco che ho detto mi pare di averlo detto sconnesso E così credo che deve essere nel parlare delle cose di Dio Per quanto alto e sublime uno ne possa parlare Essendo lui increato e noi creati Non si può dire di Dio che è balbettando Oggi è venerdì Ecco, la Divina Volontà Casualmente, diciamo sempre casualmente Ma non casualmente Ha voluto che ci fossero come soggetti di meditazione Un capitolo sulle anime vittime Anche se, vedremo subito Continuiamo a mio avviso un insegnamento importantissimo e universale E da tenere sempre ben presente E se il Signore ci aiuta faremo anche qualche esempio concreto E poi c'è lo splendido capitolo sui significati della coronazione di Spine Insomma, che anche se come ha detto Luisa È scritto in maniera un pochino Come dire, non molto chiara C'è un periodo lunghissimo Che è stato anche difficile leggerlo Che dovremo poi un attimo riprendere Però appunto vedremo di focalizzare Le motivazioni profonde Ecco, per cui Gesù Ha voluto subire la coronazione di Spine Ecco, ricordando che questa è una grazia immensa Perché non c'è nulla della passione di Gesù Niente, nemmeno un dettaglio O un secondo Che non sia stato perfettamente previsto e voluto Quindi Anche se la nostra mente umana Come Luisa stessa ci ricorda E come Gesù stesso ci ricorda Dicendosi che È quasi incompensibile la mente creata La nostra mente umana purtroppo è molto limitata E tante cose Dobbiamo accontentarci Fino a quando siamo in questa valle di lacrime In questo mondo di appena appena Ecco, diceva Luisa A balbettarle O lambirle Perché purtroppo Non si può avere una luce perfetta E un perfetto discernimento Fino a quando Si è in questa tenda mortale Comunque Qui Il primo capitolo Nasce da questa questione Che pone Luisa Aveva detto al confessore Che mi lasciasse Nella volontà di nostro signore Togliando l'ubbidenza Se voleva o non voleva Eccetera Eccetera Quindi qui si tratta Semplicemente E' uno delle solite Sante Diciamo santi dialoghi Non è opportuno dire discussioni Tra Luisa e Gesù Che facciamo E tu mi vuoi che offro le mie sofferenze come vittima Oppure no Che facciamo Ecco E Gesù Qui spiega delle cose Molto molto importanti No E Gli dice Pensaci prima E poi Domani risponderai E Gesù dice La giustizia vuole L'amore no No Quindi tutte quante Tutte quante queste situazioni Cioè La giustizia Lo vuole L'amore no Che significa Abbiamo visto tante volte No Se Luisa Soffriva delle sofferenze come vittime La giustizia di Dio venia frenata Dal Castigare Diciamo sempre Quest'espressione Tra virgolette Ricordiamolo sempre Con De non generale equivoci I peccatori E Invece E quindi La giustizia vuole Che lei si tolga Dallo stato di vittima Per poter Procedere A correggere Direttamente Gli uomini Ma l'amore no Perché Il mistero Dell'amore misericordioso Del Signore Tende sempre Ad essere Fino a dove possibile Indulgente E quindi Chiede alla vittima Il sacrificio Di offrirsi lei Per poter risparmiare I propri fratelli No Quindi per questo La giustizia Lo vuole All'amore no Poi da una grandissima lezione Prendendo ad esempio Il ministero degli angeli Custodi Che dobbiamo sempre ricordare Che esistono Ed è bene Pensarci Noi abbiamo gli angeli custodi Vicini Tutti ce l'hanno I più grandi peccatori Del mondo I più grandi Disgraziati Relinquenti Pensiamo I più brutti Peccati Che si possano fare Hanno almeno un angelo custode Vicino Almeno uno Uno Ce l'hanno proprio tutti E questi che fanno Cosa diciamo Nella briga dell'angelo di Dio Anche se questi Non lo recitano Illumina Custodisci Regge Governa E assistenze continue Quali frutti Vedono dei loro lavori Nella stragrande maggioranza Dei casi Zero Ci sono delle anime Custodite dagli angeli custodi Che vanno dannate Sì Ce lo dice Gesù Le anime vanno miseramente perdute E cosa fanno gli angeli Anche quando un'anima Precipita verso la perdizione Rimangono Al loro posto E attenzione Non cambia minimamente Quello che fanno Se ottengono o non ottengono Se danno maggiore o minore gloria a Dio Perché loro hanno avuto Semplicemente un incarico Da parte del Signore Custodisci Quest'anima Che questa sia buona Sia cattiva Che corrisponda o non corrisponda Che se lo meriti Non se lo meriti Tutto il resto Non sono affari tuoi Questo chiaramente Lo può dire soltanto Dio Un angelo Però ci rende l'idea Tu Tieni la custodia Prega per lei Fai tutto quello che puoi Quindi Soltandola Consigliandola Queste sono le attività invisibili Che gli angeli fanno Con noi Aiutando anche la nostra coscienza Le buone illuminazioni Che ci veicolano Attraverso Il loro ministero Eccetera A meno che Attenzione Quindi non devono cessare Dal loro lavoro A meno che Non venisse Lo rassicurato Dall'altro Cioè Quando si riceve Un incarico Soprannaturale E qui fa riferimento All'incarico di vittima No Tu continua A offrirti A fare tutto quello che vuoi A meno che Il nostro Signore Non dica Basta Te lo dico io Cioè Non è Nel nostro potere Rimettere un incarico Ho ricevuto Dall'altro Ed ecco che qui Qui Si applicano A mio avviso Molte cose Facciamo solo qualche piccolo esempio Di attualità Ho ricevuto La missione Di formare Una santa famiglia Quindi di essere custode Del mio coniuge Che facciamo? Se le cose vanno a finire a schifio Posso dire Siccome questo è un ingrato Non se non gli importa niente Di tutto quello che faccio per lui Lo lascio perdere No Davanti a Dio Non possiamo dirlo Uno Gli capita la disgrazia Di un figlio screanzato Che ti dà un sacco di cruci Un sacco di guai Si può dire davanti a Dio Lo lascio perde? No Certo È evidente Che in certe situazioni No Se un coniuge Se ne va di casa Non è che gli posso menare Costringerlo a rimanere dentro casa Se un figlio Se ne va Di casa E si mette a fare il matto E non vuole più vedere i genitori Certamente Non è che un genitore può Ma Per quanto sta Nel coniuge fedele E nel genitore Quello è sempre mio figlio E quello è sempre mio marito E io ci sto sempre Cioè non sarò io a dire Io me ne vado Oppure io Getto la spugna Oppure io non me ne occupo La stessa cosa Quindi ho fatto questi esempi Diciamo Inerenti alla vita Un po' più comune Ancora di più vale Per i consacrati No? Per le consacrate Le anime Che il Signore ci affida Vanno curate E Non è possibile Che siamo noi A rimettere il nostro incarico Ma noi Dobbiamo continuare a fare Come se fossero Come dire Docili Obbedienti Sante Flessibili Malleabili Se se ne vanno all'inferno La responsabilità Certamente è la loro Non la nostra Io sto parlando Certamente In ordine a quello Che si deve fare E anche se sono così Recalcitranti Le cure devono comunque Proseguire e continuare Quindi Non vale solo Per le anime vittime Io presumo Che qui Attraverso L'esempio appunto Degli angeli custodi Il nostro Signore Voglia Dare un pochino Un'esortazione Una lezione Un po' valida Per tutti Certamente Questa è una cosa Molto seria Ed è una cosa Molto molto impegnativa Ecco però La parola fine Non devono mai dirla Coloro che hanno Un incarico Da parte del cielo La si lasci dire A coloro che sono I destinatari Di questo incarico E nonostante questo Si continuerà comunque Nel modo che si può A prendersi cura Delle anime Passiamo all'incoronazione Di spine La premessa è che Ecco Qui si tratta Di un mistero Dice Gesù Incomprensibile Dire la mente creata Numero uno E questa premessa di Gesù Rappresenta un po' Una sorta di inclusione Inclusione è una figura Nota all'esegesi Quando ci sta Uno o due Cioè un discorso è incluso Appunto Tra due frasi Molto simili E quindi quello che ci sta Dentro sviluppa È il contenuto Delle due frasi Qui Gesù dice Comincia dicendo Che è quasi Incomprensibile Alla mente creata Perché il mio capo Vuole tenersi onorato Con l'avere La sua porzione Di stinta speciale Di sofferenza E conclude dicendo Che comunque Essendo lui Increato E noi creati Non si può dire Di Dio Che è balbettando Quindi ecco Tutto quello che c'è In mezzo Sono balbettii Gesù spiega Quello che possiamo Comprendere Luisa Con difficoltà Anche letteraria Trasmette Quello che riusciamo A A recepire Però sappiamo Che la profondità Di questo mistero Va di là Detto questo Cominciamo un po' A sezionare Questo lungo periodo In modo tale Da raccapezzarci qualcosa No? Allora Gesù dice subito Una cosa Premessa In relazione Alle altre parti Del corpo Il capo È essenziale Perché sappiamo Che la decapitazione Era una Delle pene capitali Usata Per infliggere La pena di morte Se mi tagliano Una mano Sono un dolore Immenso Ma sopravvivo Se mi tagliano Un l'avambraccio Lo stesso Se mi tagliano Un braccio Un piede Il ginocchio La gamba Sopravvivo Se mi tagliano Un orecchio Se mi cavano Un occhio Se mi staccano Tutti i denti Insomma No? Ecco L'unica cosa Che ci renderebbe Immediatamente morti È la decapitazione D'accordo? E il capo È anche responsabile Di tutto quello Che accade Cioè Gesù spiega Se tu pecchi O se fai del bene Supponiamo Che avete visto Quando Gesù dice Se la tua mano Ti scandalizza Tagliana No? Pensiamo Alcuni peccati Che si possono fare Con la mano Dare uno schiaffo A una persona Dare un pugno A una persona Toccare Quello che non si deve Fare un attimo Puro solitario Eccetera Eccetera Ma non è queste cose Le fa la mano D'accordo? Queste cose Le ordina di fare L'intelligenza Cervello Si trova nella parte Nel capo Quindi Responsabile Tutti quanti i peccati Che noi facciamo Non solo Di pensiero Ma anche Di parole Di opera È il capo Perché è da lì Che partono i comandi Il corpo È semplicemente Uno strumento Le membra Che noi abbiamo Sono tutti strumenti Certamente Che hanno Anche Dei meccanismi Di funzionamento Biologico Autonomo Il sangue Scorre Non perché Lo ordina il capo Ma perché ci pensa Il cuore Insomma La vita delle cellule L'apparato nervoso Il sistema muscolare Però le nostre azioni Umane Sono tutte quante Sotto la responsabilità Del capo Ecco Allora cosa succede Che tutti quanti I nostri guai E tutti quanti I mali Che sono venuti Nel mondo Sono venuti a causa Delle teste Dell'uomo D'accordo Dove si trova Il cervello Che come ci insegnano Maestri di spirito Dotti È l'organo corporeo Di cui si servono Le facoltà spirituali Dell'anima Cioè L'intelletto La volontà La memoria Per funzionare Fino a quando L'anima è unita A questo corpo D'accordo Noi non siamo Il nostro cervello Come dicono Gli scienziati Naturalisti E razionalisti No E materialisti Che riducono L'attività anche Intellettiva Dell'uomo Ad una mera Problematica Elettrica Di neuroni E di cortecce Cerebrali Questo non è assolutamente Accettabile Però È un dato di fatto Che se io ho la meningite Sarò stupidito Anche Questo non vuol dire Che la mia anima Non è intelligente Vuol dire che purtroppo Fino a quando Sto in questo mondo La mia povera anima Non potrà Esprimere La pienezza Della sua intelligenza Perché l'organo Corporeo Non funziona Ora Quindi Il problema Si trova sempre Lì Perché comunque Lì Si trovano In questo mondo Ecco I centri operativi Delle facoltà spirituali Dell'anima E quindi Ecco Che cosa bisognava fare Alle menti umani Bisognava farci entrare Dice Gesù Nuovi cieli di grazie Nuovi mondi di verità E ribattere Nuovi inferni Di peccati Fino a farsi Che riducono gli uomini A farsi vidi Schiavi di passione Questa è la prima cosa Cioè Perché è nel nostro cervello Che noi Cominciamo a Svalvorare Ad aprire Purtroppo La mente Non alla grazia Ma al peccato Al male E Alla menzogna Alla inganno E a creare Nuovi inferni Continui E Attraverso La testa Che noi diventiamo E ci facciamo A me Schiavi di Ordide E basse passioni Quindi La prima cosa Di tutte quante Quelle spine Era una Riparazione Ed una Riacquisto Una Reimpetrazione Di tutte quante Queste Grazie perdute Grazie di verità E grazie attuali Uno Secondo Gesù voleva coronare L'umana famiglia Di gloria Di onore E di decoro Gloria Onore E decoro Che era stato perduto A causa del nostro Decarimento E avvidimento Causato dal peccato E E per questo Gesù è stato coronato Di spine Queste sono le prime Due cose Di quel lungo periodo Un po' Complicato E prolisso Insomma Che Introduceva questo tema Poi Gesù Esplicita E spiega Ulteriormente Uno Non c'è gloria E onore Senza spine Questo dobbiamo Ricordarlo Questo qui E la scrittura Lo dice anche In altri termini No Per entrare nel regno Di Dio Occorre attraversare Attraverso Occorre passare Attraverso molte Tripolazioni Il Siracide Proprio al primo capitolo Dice Figlio Se ti presenti A servire al Signore Preparati alla prova E alla tentazione Cioè Questo è una legge Gesù Gesù Dice Chi vuol venire Di tutti i merenghi Se stesso Prenda la sua croce Ogni giorno E mi segua Non si arriva Alla gloria Senza essere passati Attraverso le spine Poi Altra cosa Secondo punto Non ci può mai essere Domino di passioni Acquisto di virtù Senza sentirsi Pungere Fin dentro La carne E lo spirito Che significa Significa Cosa significa Sentirsi pungere Allo spirito Per esempio Se uno ci dà Una rispostaccia Ci fa una partaccia Noi non abbiamo Sofferenze fisiche D'accordo Non è come se Se fosse uno schiaffo Ma Il nostro interiore Soffre Pungere Si dice anche Nel parlare comune Quando uno Usa delle frecciatine Le parole pungitive O le parole taglienti Che significa Si chiama Parole pungitive Ciò che ti pungono Ti fanno male Queste cose Sono necessarie Il Signore le permette Perché altrimenti Niente acquisto Di virtù E niente passioni E Pungere anche La carne Lo spirito Soffrire un pochino Nel proprio corpo Quando le cose Le fa al Signore Te mandano Una piccola malattia Te mandano Un pochino di caldo Un pochino di freddo Quindi Queste piccole Medio Grandi cose No? Quindi Senza punture Di carne e di spirito Non c'è Domino delle passioni Questo vale sempre Questo qui E questo vale anche per entrare nel regno della divina volontà Perché non è Che il regno della divina volontà È un bypass Di tutta quanta questa roba qui No Si passa per tutta quanta questa roba qui Che poi ci accompagna durante il terreno Il regno del terreno E si va oltre Ma non si bypassano queste cose Poi Ancora Il vero regnare Sta nel donare se stesso Con le punture Della mortificazione E del sacrificio Attenzione Qui c'è un pochino di differenza Qui Gesù passa Al sacrificio E la mortificazione Volontaria È chiaro No? Si capisce dal contesto Il vero regnare Sta nel donare se stesso Quindi Donare vuol dire che Sapete che il dono è una cosa gratuita Quindi che io Volontariamente Gratuitamente Mi assoggetto a qualche mortificazione A qualche sacrificio Che non mi sarebbe chiesto Perché non me l'ha inflitto O imposto la divina volontà Oppure non sono tenuto a farlo Perché non rientra tra i miei doveri di Stato E rientra nella volontarietà D'accordo? E anche questo È significato Dalla coronazione di Spine Ancora Gesù prosegue Queste Spine significavano Che vero ed unico re Sono io Cioè la coronazione di Spine Questo è un tema noto Alla spiritualità cattolica Gesù viene fatto re di burla Quindi appare come Re per scherno Ma dietro quella corona di Spine C'è la corona reale Che Gesù ha Sappiamo che In uno degli anni liturgici Mi ricordo Se l'ha il B o il C Proprio il giorno Della festa di Cristo Re Viene letto Il Vangelo Della coronazione di Spine D'accordo? Perché quelle Spine Sono una burla Sono uno sberleffo Fatto a Gesù Ma Vedete che cose strane Che si inventano Altissimo Dietro lo sberleffo C'è la verità No Salve re dei Giudei No Sputi Schiaffi Spine in testa Colpi sulla testa Ma quello L'altro che il re dei Giudei Quello è il re dell'universo E solo Chi mi costituisce Attenzione Gesù è il re oggettivo Ma solo chi mi costituisce Il re del proprio cuore Perché è a quello Che Gesù tende Gesù non voleva Regni umani Ecco come sembra Questa fosse la grande tentazione Di Giuda Che l'ha portato poi Al tradimento e al suicidio Vedere il nuovo Davide Tematica Classica Tipica del Vangelo Secondo Marco No Con tutta quanta La problematica Del segreto messianico Ma Gesù non interessa Nei regni temporali Nei terri Tantomeno gli interessava Di diventare re Di un piccolo popolo Insomma come era Il popolo di Israele A Gesù interessa Il dominio universale E non un dominio politico Ma il dominio dei cuori Che si fonda Sulla volontarietà Dell'accoglienza di lui Come re E solo chi fa questo Gode pace e felicità E diventa re O regina Del proprio regno E quindi Tutti quanti Quei fiumi Chiude Gesù Che scendevano Dal suo capo Erano Rigagnoli Che lavavano L'intelligenza umana Perché la nostra Intelligenza umana Ha bisogno di essere Molto lavata Per poter conoscere La sovranità Di Gesù Sopra di noi Ecco Questo è un bel dono Che Gesù Ci ha fatto Che noi ci teniamo Ci riteniamo Soprattutto A questa parte Queste ultime cose Che sono Un po' Spiegazioni oggettive L'importanza Di far regnare Di aprire le porte Del nostro cuore a Gesù E l'importanza Del fatto che Non si arriva Ad una vera santità Senza puntura Della carne Dello spirito Quindi accettando Con amore Quello che ci fa Da nostro signore Sotto questo punto di vista E Senza essere Volontariamente Attivi Della mortificazione Del sacrificio Imparando a donare A noi stessi Ecco Ci riteniamo questo Se lo portiamo In questo giorno In cui La chiesa Comune venerdì Fammi morire Della passione di Gesù Con il cuore a lui Grato Per tutto Con il cuore a lui Che riteniamo Hungire Questa riteniamo Viola Per tutto Per tutto Per tutto Per tutto Iniziamo Per tutto Per tutto Per tutto Per tutto Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.